Se il centro-destra si ricomparla, se magari Storace anche alla fine, invece le bizze, capisce che questa può essere una grandissima opportunità anche per lui di prendere in mano le redini di questa città e insieme, con serietà e trasparenza, ma con determinazione, cominciare a cambiarla, a questo punto, anche sulla base di un programma affascinante, perché no? Ha provato a cercare questo Storace? No, lui dice che io lo cerco, però al momento non mi risulta Grazie